e un ciao ciao a tutti belli brutti baffetto del mese numero 100 numero one andrea e amici a gran bretagna c'è un bambino vivace che corre dal suo papà 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 la mamma ti tradisce ma cosa dice giannino papà papà prima abitavamo a palermo poi ci siamo trasferiti a napoli ma giannino cosa dici ci siamo trasferiti per lavoro papà papà le anni fa ci siamo trasferiti a firenze ma giannino vedi figliolo per lavoro bisogna fare dei sacrifici papà papà ora abitiamo a milano vedi figliolo quando sarai più grande capirai si papà si papà ma il postino è sempre quello